Il mare meraviglia da tutelare è il titolo del convegno organizzato dalla diocesi di Vallo della Lucania, pastorale sociale e della custodia del creato, nel quale saranno premiati gli studenti che nel corso dell'anno hanno preparato degli elaborati proprio sul tema della tutela del mare. Attraverso questo lavoro promosso dall'ufficio nostro diocesano è quello proprio di portare i giovani a riflettere sulla realtà stupenda nella quale viviamo e particolarmente sul mare che circonda buona parte della nostra diocesi. E' allora un'occasione buona per riflettere e per entrare nelle problematiche poi con le persone che sono del campo, che lavorano del mare e sul mare. Noi siamo principali attori per la sensibilizzazione della cultura del mare, sensibilizzare i ragazzi prima di tutto, quindi siamo attori nelle scuole e in questi convegni per portare maggiore rispetto, per sensibilizzare i ragazzi sul rispetto del mare. Sono felice di poter intervenire a questa iniziativa soprattutto perché è rivolta ai giovani, perché la rica di una mare italiana ha come compito principale la protezione ambientale e l'avvicinamento al mare culturalmente soprattutto dei giovani. Il concorso è stato stimolante per questi alunni di queste scuole, soprattutto le scuole secondarie di primo grado, che hanno affrontato il tema della tutela del mare in modo esauriente e in modo molto completo. Infatti le tele e i lavori che sono stati premiati rappresentano proprio questo problema e come loro vedono è il modo in cui poterlo affrontare per fare qualcosa in vista di un miglioramento ecologico di tutto il pianeta. Il fatto che le tartarughe vengono in spiaggia, quindi lasciano il mare per questo momento molto delicato e poi è anche un incontro, incontro dal mare e anche le persone che vivono sul mare, vicino al mare, quindi è ulteriormente buono di utilizzare questi momenti e occasioni per sensibilizzare e parlare delle problematiche anche del mare e creare veramente un'ammonia tra il mare, l'ambiente e le persone che ci vivono. Credo che l'incontro di stamattina sia stato veramente importante e significativo innanzitutto perché ha visto protagonisti i ragazzi, centinaia e centinaia di ragazzi del Cilento sono stati impegnati in questo momento di ricerca, di realizzazione di opere con al centro il rispetto del proprio territorio e soprattutto in questo caso del mare. Perché le scuole rappresentano la possibilità di educare le nuove generazioni ad un impegno più pressante, diversamente dalle nostre che probabilmente hanno percepito, abbiamo percepito con meno urgenza certi problemi che invece andavano crescendo, andavano in gigandento. Senz'altro è stata una bella esperienza soprattutto perché comunque si parla di una problematica che è molto attuale e che comunque è sempre in crescita e per questo la mia idea è stata quella di imbottigliare il mare e un po' fare il contrario di quello che sta succedendo per ricreare come magari il mare potrebbe essere tra un po'. Noi con il nostro cartellone abbiamo voluto illustrare l'aspettativa e la realtà di un mare pulito, infatti abbiamo diviso in due facendo prima l'aspettativa di un mare senza inquinamento e con pesci sani e con animali marini che volano senza disturbi alimentari e disturbi genici. E poi abbiamo illustrato nell'altra metà la realtà invece di un mare inquinato con buste e inquinamenti vari.